Sì, confermo sempre, va bene. Beh, nel momento sono solo loro due. Hai ricevuto una lettera? Carada, ciao, sono io. Ti ho mandato una lettera, avvisami se non la ricevi. Vuoi, Jerry? Sai, avvisarlo che non l'hai ricevuta se lo scrivi in questa lettera. Oh, italiani di gioco adesso abbiamo. Veniremo alla prossima locanda. Uh, dove andiamo adesso? No, dobbiamo andare qua. Da me ho che è tornato. Puoi tornare, quindi. Questa è Miyamoto che ti aspetta. Dov'è? Dov'è sei? Dov'è? Eh, da... Dov'è? Tu stai? Oh? Forse è questo. Forse è Link. Ah, questo è Link. Ah, ti mostrano dove sta, quindi, quando tu ricchi. Dov'è arrivare. Non c'è me. Vedi là dove sta Jesse? Ti guardi che ti disegna tutti sulla mappa. Il viso c'è stile di Jesse? Ah, 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 ah. Allora non può più sussurrarmi dolci parole. Ma non c'è più... Ah, è questo forse. Il primo, il primo. Ah, ecco. Quando ci parli, torna la faccia, quindi. La faccia di me, o eccola. Oh, di nuovo il mio viso. Che sollievo. Ho perso pure una striscia di bacio. Appiccicare il viso di qualcuno su un mostro. Chi mai potrebbe concepire una cosa simile? Ad ogni modo, grazie mille. Ma c'è la Zufi che si toglie. 200 euro. Beh, questa del villaggio è un po' inquietante. Però la musichetta di solito sì. Quella, beh, la commerciante non fa niente che li vedi. Tanto noi giriamo. Se proprio ci manca qualcuno, vediamo dove sta e lo recuperiamo. Allora, andiamo prima da Miyamoto. Però lui non so che fa. Fan di Nintendo, Miyamoto. Ehi, ciao, mi chiamo Miyamoto. Dimmi, ti consiglio una fan di Nintendo? Sì. Grande, anch'io. Ma forse si notava già, vero? Abbastanza. Comunque, ho sentito parlare di alcune statuette. Mi pare che si chiamino Amiibo. Chissà che aspetto hanno. Se ne è uno, ti andrebbe a dimostrarmelo? Non in questo momento, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, però non in questo momento. E poi molti sono in scatolati. Panti, vai. Questa acconciatura ti sta molto bene. Si vede. Mi chiedo cosa faccio da quella persona che abbiamo aiutato. Non si pensano proprio come tu dici una cosa e rispondi in un altro modo. Parfaroccia A e B. Quindi no, ti dice quelli che salvi però non sono telepersona. Questo non serve a caso. Ah, prima azione a due. Spavalderia. Vabbè, non c'è stato il tempo quello di farla. Ad ecco, vincolo. Vai, vai. Oggi ho indossato i miei vestiti preferiti. Sempre insieme fino alla fine. Ci dobbiamo farsi a caso. Guarda, quella nuova sembra fatta di melmatina. Per me è la forma di una bella fetta di goblin. Ah, quindi è una forma proprio fallica. Ah, capisco. Non ci vedo più della fame. Ho troppa fame. Quindi ne ho diventato la locanda? Forse sì. Questo vestito è orribile però. Sono in perfetta forma. Qualcuno deve essere di buon umore. Oh, da che parte? Percorso arduo. Vai percorso arduo. Vai. Non faccio che sudare. Tutto bene? E qua ci saranno diversi scontri. Oh mio Dio. Uno di Leon. Da questi ci accoppano, eh? Eh, perché sono troppi. Cosa fai? Avertimento. Attenzione! Che non hai schivato. Oh? Non so se si dovevo schivare io. Primo snack. Ah, da mangi una banana. E che? Vittoria? Ce ne sono ancora altri. Vabbè, però il mio volo è morto. Ancora? Quante mazzate? Non si dice mazzate. Si dice... Cazzate. In questo caso. Fai attenzione, oh! Ma che devi premere un tasto? Non lo so. Fai attenzione. Oh! Poi se non hai reagito in tempo. Dove puoi fare più la magia. Come facciamo? Non abbiamo più se... E usa l'attacco. Dai, scema. Poi provare a colpire lo stesso. Ah, tu te la mangi? Eh, quello che tenerebbe a lui, eh. Vai, attacca di nuovo. Che vuoi se che ce la fa? Però comunque se le morsi. Ok, finita... Questa è solo il primo scordo. Questo percorso arduo è incredibilmente arduo. Ma proprio se per salvare lo è salvo. Non lo so. Che fa di catch? Di vivi la battaglia. Mette di goblin. C'è te, li hanno? Ah, pepire c'è. Ah, cura un po'. Oh no, abbiamo finito da pepire, però. Poi ho detto di usarle con giudizio. Ciao Condor, benvenuto. Come stai? Ciao. No, però abbiamo solo queste. Sì, non abbiamo nulla. Dobbiamo ancora comprare. Vai dritto, vai. Sperando in bene. Oh, forse è solo. Apri. No, però... Ok. Sta scritto anche lascia stare, quindi può essere pure che ci esce qualcosa di negativo. Oh, sta finendo già. No, non lo fai. Perché il percorso arduo è solo una battaglia. Non è solo quello, allora. Beh, forse era quello più breve, però più difficile. Chi è? Avanti. Qualcuno ha la porta. Oh, sembra che il tuo abbia compagnia. A chi ti riferisci? Al nuovo membro del tuo gruppo. In due, sarebbe un'impresa a sconviggere il Duca del Male. Ecco perché ho invitato qualcun altro a unirsi a voi. Però l'accoglierete come si deve. Sì, oggi è uscito Mitopia per Nintendo Switch. Seleziona. Salvataggio. Adesso chi mettiamo, però? Eh, non so chi possiamo mettere come compagno. Ci mettiamo Link e Zelda. Eh, non lo so. È troppo difficile questa scelta. È in tipo la scelta della vita. È come quello che devi mettere magari il nome a un figlio. Tu dici, lo metto e poi rimane per sempre così. Link e Zelda, dai, basta. Sono i migliori alla fine. Come ti metti a prima Link come ladro o Zelda come sacerdote? Ti metti a prima Link. Non è che fa un voltersi incomodo. Ah, lui mettiamo energico, va? No, non mi sembra tanto il caso energico, visto che quello dorme sempre. Vabbè, il gatto si stanca. Chiamo Link e sono un ladro energico. Ah, però ci sta bene con questo vestito da ladro. Eh, perché non abbiamo trovato tanti personaggi. Adesso pensavo che in chat ci stavo. Infatti ho detto, ma chi è che sta scrivendo questo messaggio? Ciao, non è accompagnarti nel tuo viaggio. Sì, vai, in realtà questo vestito arangiole ci stava bene il ricco di Final Fantasy X. Ah, è vero. Però non l'abbiamo trovata. Eh, esatto, è morto il 6, però l'hanno detto solo ieri. Pare sentire Link a suo agio nel gruppo. Ora che ci penso, giurei di aver chiamato qualcun altro. Chissà che fine ha fatto, ha sbagliato strada? È il quarto membro del gruppo. Beh, suppongo che vi raggiungerà prima o poi. Quindi per farti ricaricare anche un altro mindset. Prima e non si ne entrai. Mica male, no. Ah, Link dove lo mettiamo? Mettilo in alto a sinistra. Non ci stiamo chiacchierando. Ho comprato un regalo. A chi per darlo a te? Guarda cosa ti ho preso. Una banana, spero. Ecco qua. Ada ha fatto un regalo a Leon. Cosa? Per me? Grillo di grotta. Che schifo è? Che orrore. Leon non è per niente contento. Eh, ci credo. Ah, Link si vuole cambiare vestito. Ah, devo mettere questo. Poi una tenuta. Ah, sicuramente gli sta meglio. Aumenta anche la difesa di un bel po'. No, infatti è un bel gioco, eh. Sì, sì, è proprio bello. Metti verde. Ah, verde, sì. Ah, ma che ha messo la banana. Vabbè, eh. O blu? In realtà è il stesso colore di l'azzurro. Azzurro, dai. Non è più il verde. Perché questo è il link di Breath of the Wild. No, mi piace questo link. Sarà una buona scelta. Dai. No, vediamo la sala giochi. No, se ne andiamo prima a mangiare. Eh, andiamo prima a mangiare. Comentiamo l'attacco. Sempre a te o a lui? No, vedi, guarda. Quello ti fa vedere che... Tu c'hai tutto quanto a zero. C'hai un briciolo di MP. Nel mio caso io c'ho l'attacco quasi caricato. E' a metà di PS. E lui è tutto a zero. Quindi conviene che mi dai un po' di attacco e un po' di PS a me. In questo modo... Sennò quelle due sono inutili. Capito? Ah, prestato. Adesso se c'è qualcosa che aumenta... Però non ti dice cosa... Ah, si ti dice cosa aumenta. I PM li do sempre a me. Sì, visto che tu sei mago... Sì, anche quando abbiamo giocato... Mi sembra, forse Final Fantasy I... Avevamo messo Link come nome di uno dei personaggi. Lì erano tutti e quattro personalizzabili. Per i nomi almeno. Eh, conviene che ti potenzio questi MP. Ciao, Pascart86. Benvenuto, come stai? No, infatti Facebook dovrebbe saperlo. Più che altro è che abbiamo messo pure lo status su Facebook. Non è che tu ti sia ben ignaro. Se la giochi... Allora... Beh, volevo fare Facebook queste cose e le sa, però non le capisce. Che fa se la giochi? Non lo so. Allora... Ci... Ah, forse è tipo un ruoto a caso di dar un premio. Si ferma lui, sì. Se va sul giallo ti dà un vestito, l'armatura è in ecopelle. Quindi Link ha buttato i soldi. Vai... È perché adesso te ha legato. Ha buttato proprio i soldi, quindi questo Link. Ha buttato 150 monete. Ricevi un'armatura è in ecopelle. Però no, è diversa. Ah, sì, sì. Ah, no, ma questa forse è per te, allora. Io volevo la banana. Sì? Io volevo la banana. No, mi hai voluto questo. Questo. Ma vorrei anche vendere. Però vabbè, mi aumenta la difesa, quindi ok. Che mantello che colore lo vuoi? Vabbè, fa un po' schifo l'armatura in sé. Proprio il colore. Eh, sembra tipo un'armatura romana. Eh, sembra uno di quei soldatini però stupidi che li ammazzi così senza pensarci troppo. Vai, metti... Boh, o... Vabbè, arancione che si abbina. Si abbina, vai. Però ho visto questa una cosa, ho scritto solo statistiche. Forse tu puoi anche aumentare solo le statistiche e lasciare il vestito di prima. Adesso vado a prendere la banana nella realtà. Link però, aspetta, quello ero io. Poi c'è anche Link. Ha tenuto una caramella, giochiamo ancora l'ultima volta perché abbiamo l'ultimo ticket. Vedi se riesci a ottenere l'italiano incontro è buono, che ci fa potenziare un sacco. Aspetta di Goblin è la cosa più nudi. Ah, genuido. Ah, ma che cos'è sasso carta forbice? Ah, non l'hai provata. Ehi là, ti va una partita sasso carta forbice. Sto pronta a regalare 500 mh? Ma chiunque riesca a battere. Fammi vedere di cosa sei capace. Una partita cosa soltanto un tagliato. Stai scherzando per caso? Non prendere il gioco senza tagliandi. Tornate a me quando ne avrei trovato qualcuno. Ah. Cosa c'è? Vai indietro. Non ce l'hai allora. Dona le monete. Vedi se c'è qualcuno che fa un sogno economico. Tu, vediamo. No, mi serve nulla. No, va bene allora. Riprendi. Ma se quello vuole mangiare. Non hai fatto mangiare niente. No, ti ho fatto mangiare. Eh no, ti arrivava il pensiero. E mangia questo. Io non ti permette mai più. Di presentarti senza tagliandi. Non hai cibo. Eh, me l'hanno fatto consumare tutti. Vai, andiamo. Riprendi. Riprendi. Ah, scegli fino a tre membri. Ok, scegli anche Link. Voglio una caramella. Spero che se la caramella ha gelatina tutti i gusti più uno. Eh, vai. Vabbè, no. Io quelle là non le voglio. Vabbè, sì. Sono troppo in trama di quando a fine film si lende e dice quel fatto che la torna ha gusto di vomito. Eh, no, di cacco. Ma comunque, non le ho... Vabbè, perché le ha incertità. Tipo con la figlia di Harry Potter le vendevano. Però non abbiamo il coraggio di comprarle. Anche se giustamente penso che quelli erano un gusto di quel tipo. No, ma guarda un po' chi c'è qui. Ah, chi è? Il duca. Il duca corona. Eccolo. Ah, però fa schifo così. Sei peggio di un sasso in una scarpa, lo sai? Per non dire in un altro posto. Duca del male corona. Preparate ad assaggiare la sconfitta. Ora caccio la variante. Questa mi ha fatto proprio ridere. Beh, sei tanta bella di coprirti di ridicolo. Fammi idea di cosa sai fare. Sì, contro di lui. Che è? Facendo un attacco super. Alto là. Che che dici? Ah, c'è veramente il gusto vomito? Allora, che schifo? Dai, schifo. Io sa rompermi le palle. Eremite erranti. Un potente incannatore che vaga per il mondo aiutando gli altri. Ah, quello dobbiamo scegliere bene, allora. No, qua ci voleva tipo Gandalf. Abbiamo comprato la lampada l'altro giorno. Eremite erranti, che puoi essere? Ma non è un compagno. Eh, lo so. Essere un mago. Allora, Dracula. No. No, deve essere un mago. È un mago, pensiamo. Un mago potente. L'altro non è un mago. È Bartolo. C'è Kamek come mago. Ah, sì. Non è tanto potente. Ah, Yuffie già l'abbiamo messa. Come per Cante. Baland. C'è pure leone e il cane e i pifoni. No, non va bene. Come ci sta. Baland è un mago competente. Ah, c'è Baionetta che è una strega. Baionetta non va bene. E quello è il duca che parla così, è un po' scurrile. Michael Jackson? Un'enemita in run. Shrek pure. Shrek no. Ci vuole qualcuno che deve essere un mago. Eh, Hagrid. Hagrid deve essere uno. Eh, vabbè. Vediamo. Vediamo come sta. Dove? Ah, sta bene. Dai, sì. Avanti, dai. Sembra a Dio. E così lo seguo il duca del male di cui si fa un gran parlare. Se pensi di poter... Ah, quello non era un mago. Lo dico che non ero un mago. Ah, vabbè, vero. Vabbè, fa niente. Se pensi di poter tecavare così facilmente... Mi hai fatti i conti con me. E l'emiterrante, PS1, Hagrid. Te l'ha mai detto nessuno che se ne rompi palle? Nel nome del padre... Beh, questa volta lascerò correre. Ma solo questa volta, muohohohoho. Non ha fatto niente, questo. Respira con calma, respira con calma. Ehi là. Il mio nome è PS1, Hagrid. Sono un'eremita errante. Io sono Ada. Sto raccontando tutta la storia. Interessante. E così sei in missione per fermare il duca del male? Sì, però... Credi di non essere abbastanza forte, vero? Averto un misterioso potere nascosto in te. Al momento è piuttosto debole. Ma diventerà sempre più forte a mano a mano che prosegui nel tuo viaggio. Quindi tieni duro e non scoraggiarti. D'accordo. Se nessuno lo vorrà, ci incontreremo di nuovo. A presto. Per ogni guardia del castello. Eh, aspetto. Meramina, sei scelta. Ernesto, Brando, Mancio destro. Allora, quindi delle guardie. Quindi personaggi un po' importanti, ma non la difende. Eh, sì. Soldato serio. Vorrà sacrificarsi per difendere il re o il suo cosciotto. Va bene, sì. Ma dice il suo cosciotto. Ah, le tartaruche ninja, è vero. Eh, è vero, eh. Viste che sono giusto quattro, eh. Adesso non mi ricordo molto bene i caratteri. Mi sembra che Raffaella era quello più ingazzoso. Il più stupido era Michelangelo. Ma la potevamo mettere lei come remita. Guarda, sopra. Ram. Eh. Vabbè, però... Allora, mettiamo... Quindi soldato serio, mettiamo Raffaello. Brando, nella Pacifica, non è difficile battere un po' la fiacca. Quindi questo è Pigro. Pigro, pigro. Mettiamo allora Michelangelo. Eh. Eternamente leale al re, ma un po' troppo rigido nel comportamento. Come mettiamo Leonardo. Oh, questi ci stanno molto bene. Ah, infatti. Vabbè, questo... Diciamo, non è che ci sta proprio benissimo, però vabbè. Donatello. Sì, va bene. Ok. Eh, più o meno i caratteri ci stanno. Forse solo Donatello, non tanto. Vabbè, se no... Mi piacciono tantissimo. Poi c'è un tesoro laggiù. Ah, si sono aperto un sacco di strane. No, ma... No, ma vedi, si può andare da ogni... Ogni momento. Ah, lì c'è salva. Non abbiamo mai salvato. Se crepiamo, perdiamo tutto. Ah, non salviamo, allora. Non so, però perché dice salve ed esci. Salve, intanto. Poi se mai rientriamo. È uscito pure una lista. Rientra. Oh, è molto veloce. Sono quasi next gen. Andiamo qua a vedere che cosa è questo forciere. Guarda com'è bello quell'ink. Sta benissimo. Guarda com'e avanza. Ho un buco nella scarpa. Pensavo la stessa cosa. Da chi è in realtà? Se uno Hagrid. Però ho detto adesso perché tu il film non li hai visti, però... Per il ruolo che ha fatto quel Gandalf ci stava benissimo. Eh, sì. Dovevamo crearlo. Vai. Riescerebbe saperlo anche a me. È stato un mito quando ha detto... Se pensi di potertela cavare così facilmente. Non hai fatti i conti con me. Lo devo mettere ormai. Ah, è vero pure. Mi so che fa comparse. Neanche il Duca del Male. Io pensavo pure. Mi diciamo il dubbio se non ce l'aveva però. E anche il Duca del Male può nulla contro una tale capacità oratoria. Troppo forte. Che classe. Già amica chi fia. Forza, andiamo. Chissà quanto durerà questa atmosfera. Ah, quale scegliamo? Eh. Ah, a destra. Versi il tesoro. Bisogna ridormire. Hai detto qualcosa? Oh, c'è qualcosa per terra. Io non ho attenuto una caramella. Non faccio che sudare. Sempre. Perché? Perché? Vediamo chi c'è. Chi è quello? Nubugno. Ah, potente Link. No, sicurato. Passo. E non fa niente. Boh. Guardi, non ho sul Nubugno. Poi sì, infatti. Che so è trovare le caramelle a casa. Ma pure la banana, no? Un po' dolce. Questo è proprio in un punto dove coltivano, no? Ma vedi, adesso l'ha evitato. Maggiore affinità. Buoni conoscenti. Guardi, sei anche curata tutta. Consolazione. Sono solo un alleato che è stato colpito. È qui che ti fa male, vero? Perfetto. Grande risultato. Comunque è molto bello come gioco. Eh, Link è il terzo incomodo. Vabbè, però poi arriverà anche Zelda. Fendente in salto. Un fendente è menato in salto per affettare il nemico dall'alto. Dali al Link. Perché il tesoro? Prima la locanda, poi il tesoro. Gruppo una ragazza di livello 4 tra due membri del tuo gruppo. Ottenuta. Sì, tipo trofeo. Peccato, perché noi ce la spassiamo quello sta là così, eh? Vedi? Sentiamo da giocare. Ah, hai dato l'occasione di fermarti. Vedi? Vai a mangiare. Ah, però c'abbiamo solo questo. Eh, darteli a te. Ah, te lo dici, al Link fa schifo. A te piace un sacco e all'Irono non si sa. Niente, non c'è cibo. Ah, tu? Ah, vogliamo delle nuove armi. Che cos'è questa scopa? Vabbè, però... Però... Non ti basta, ti manca una moneta. A te? Tu cosa vuoi? Anche a te basta. Tu già vuoi un nuovo vestito. Questa pronta... La tenuta è la trekking. Non possiamo comprare niente. Tu so ne hai i soldi. Vai. Eh, la tenuta deve spazzare. Forse adesso ce lo danno il trofeo. Il tesoro. Eh. Avanza, avanza. Che tristezza. Andrà tutto bene. E quello salta. Non è depresso. Apri. No, l'abbiamo trovato. I tuoi sogni si sono realizzati. Perata. Una scopa perata. Equipaggio, vai. Che fortuna. Visto, quello ti frega. Ti mette il sogno prima che lo trovi. Eh, infatti. Cotoraccio, chi sarà stato? Quello link che camminava, si è piegato. Secondo me sgancia. Eh, pure l'anno scorso. Tutto bene, invece no. Usare la nuova scopa. Di che potenza? Ah, vai. No, vabbè, con la magia. Ah, ma è brutta questa scopa. Mi non piace. Si addice. Vai, ora la puoi usare. Scopa in testa, vai. È morto. Potrei minare ancora un po' le mani. Ah, abbiamo le fette di goblin adesso. E a cui stiamo andando adesso? Verso l'orizzonte. Una locanda. Ancora? Ma guarda le locande ci sono in questo mondo. Mi pensavo che era una cosa un po' più rara. Locanda. Mentre noi insieme è Link solitario. Ah, Link sono i soldi, eh. Per andare da donne di facili costumi. Ok, accordiamoci su alcune regole di base per la stanza. Sono completamente d'accordo. Benissimo, allora dobbiamo sempre tenere pulita la stanza. Scusa, non mi a me serve una locanda. Assolutamente. Anche la locanda deve essere tenuta pulita. D'accordo, perché no? Scusa, non siamo grielli. E poi dobbiamo mantenere pulito anche il mondo intero. Ma versi il senno. Infatti, ci vuole questa azienda. Quando arriva? Siamo ancora buoni conoscenti, eh. Elogio. Riempi di complimenti un alleato. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ah, ce l'ha il cibo. Abbiamo le fette di Goblin. Mi piacciono a tutti. Però non ti viene un pochissimo attacco. Lui uno zero. No, ma quello perché il panamero è sbloccato, capito? A chi lo dirà? Io sono già più uno. A lui, allora. Vabbè, dallo a lui a me. No, uno, uno all'altro. Stito. Bello questo. Tipo manco merlino. Ah, non basta. Vuoi sempre questa nuova arma? Beh, te la compro, allora. Vado il rame, vai. Vado l'ha comprata, eh. Equipaggio. Ma oggetti vecchi li puoi vendere? Eh, penso di sì. Vediamo. Come si fa a vendere? Forse menu. Sembra un ghiacciolo. Eh, vedi armi. Sacchetta prendista. Se le apriemi che fa? No. Forse in qualche negozio. Eh, quando... Eh, sì. Infatti. Vabbè. E niente, no, non puoi donare i soldi a nessuno, quindi avanza. Ma te qualsiasi altra socio ha portato lontani dall'obiettivo? Eh. Ah no, siamo qui. Allora adesso... Queste due strade, secondo te, dove portano? Se no, dovremmo fare anche la strada inversa da quell'altra parte. Ah, tutti qua. Non so se stai ripercorrendo la strada di prima. Mi stanno volendo le vesciche. Vorrei dei vestiti nuovi. Come già sei a capire i due, non trovo. Viva il mio gruppo. Il mio gruppo è il migliore. Se lo dici tu. Ah, ecco. Vai a sinistra, allora. Così facciamo il collegamento. Facciamo vedere a tutti ciò che sappiamo fare. Nulla. Mmm. E appunto, Nino fa una di cose proprio staccate. Ora questi sono due forti, eh. Si curano pure, quindi devi eliminarli velocemente. Ada vuole fare colpo su Leon. No, si è curato. Un attacco! Nuovo abilità. Prendente in salto. Oh, potente questo attacco nuovo. Bam! Così si fa. Allora, sicuro. Però questo è quell'altro. Non lo facciamo così. È tutto curato. È il fuoco. Ada vuole fare colpo su Leon. All'attacco! Ma che fa anche, no? Mi sembra di due ogni volta gli attacchi per fare colpo su Leon. Mi sembra di un po' sessista. Che fa di caccia. Fatevi sotto, mostri. Ma dai. Cosa dobbiamo fare? Ah, il tempo di andare per andare all'avventura. Andare all'avventura e non solo. Ah sì, e per cos'altro? Andare a casa. Giusto, andiamo a... Un momento, cosa? Niente affatto. Eh, Link, infatti, sembra un po' qualche problema, eh. Sono in perfetta forma. Sembra che non sia cambiato niente. Ok, questi sono forti, eh. Vai. Hai i goblin? Oh, mia mia, hai i goblin? Ah, vabbè, sì. Eh, diciamo, potevano farti controllare tutti i membri, però. Perché ti prendi la caramella? Che fai? Forse hai quell'abilità. Ma lui c'ha solo 5 MP. È uno spreco di cose. Eh, no, no. Mortal Goblin. No, Link. Sto sognando. Sto sognando. Oh, stanno bruciate le Link. Ma lo posso dare a lui? Non so, non so, penso che è sicuro. Lui ce l'ha comunque, vedi? No. Cioè, sia una banana che una caramella. Ah, no, comunque te la usi su te stessa. Non ti fa scegliere. Vedi? Mangiate la banana, eh. Questo attacco di Link è buono perché colpisce tutti, ma non è proprio fortissimo. Eh, no, infatti. Ah, non vuole fare colpo su Link. Ci riesce. È già finita? Ah, nuvola affilata abbiamo preso. Un gelato. Vorrei affrontare il mondo intero. Eh, dai. Non si sa. Eh, vai, vai. Questo significa. Un tesoro. Apri. Oh, 3 tagliandi di gioco. La locanda? Mi sembra che la locanda è segnata alla fine dell'area. Perciò sono così tante. Perciò. 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 Grazie a tutti